Dunque ragazzi, dunque, siamo tornati su Garden of Bamban. Sto registrando questo video che ancora il primo non è uscito, quindi non so come è andato il primo. In ogni caso, grazie comunque a tutti quelli che l'avranno guardato, se qualcuno l'avrà guardato, ovviamente, ma perché siamo qui? Per due motivazioni ben specifiche. La prima è che mi sono accorto, solo dopo aver finito il primo video di Garden of Bamban, che alla fine il gioco mi si è buggato. Alla fine doveva apparire il mostrone, quello verde, che si appendeva all'ascensore su cui mi trovavo, doveva trascinare tutto giù. Fine del gioco. Ecco a me il tizio, quello verdone, non è mai apparso, quindi non è vero, cioè il finale è finito male, perché il gioco si è buggato e quindi non mi ha mostrato il verdone. Ma noi oggi siamo qui nello specifico proprio per questa stanza qui, ragazzi, proprio per la stanza che state guardando in questo momento. Noi adesso apriremo la stanza con la porta viola, perché sì, perché c'è un segreto, c'è una chiave segreta che vi porta ad entrare in quella stanza. Quindi noi adesso, non so quanto durerà questo video, facciamo una piccola speedrun di questo gioco, lo finiamo di nuovo tutto quanto per appunto vedere se al finale riavrò quel verdone che si appiccica all'ascensore. E inoltre vi faccio vedere la stanza segreta, vi faccio vedere come entrare nella stanza segreta. Dobbiamo ripetere le stesse operazioni dell'altra volta. Quindi facciamo qua, qui adesso andrà, e spoft, perfetto. Adesso dobbiamo farlo con questo, è diventato molto veloce adesso, eccolo là, perfetto. Non ci fa più paura niente adesso, eh, niente ci spaventa. È vero, signor piccione rosa? E callà, se ne va. Oh, bene, bene, bene. Dobbiamo trovare le uova, vi ricorderete. Quindi. Ah, le uova non spawnano se noi non andiamo prima qui. Ma tu pensa, ma tu guarda. Terzo uovo. Mandiamo il drone a picchiare qui. Nel frattempo noi andiamo a prendere un altro uovo che è qui. Perfetto. E dovrebbero essere tutti, ho smesso di contarli a un certo punto, ma dovrebbero essere tutti. Diamole in pasto al nostro uccellaccio preferito. Ecco qui la chiave. Perfetto. Perfetto, prendiamo la chiave e andiamo ad aprire la porta gialla, che poi non è una porta, ma è questa roba qua. Eccola qui. Picchia picchia. Picchia picchia. Oh, perfetto. Occhio qui perché questa parte è molto importante. Dovete fare esattamente queste operazioni. Sfondiamo queste robe qui. Ovviamente si buggeranno. Adesso le buttiamo giù così possiamo passare più agevolmente. Poi c'è da attivare questa roba qui. Scenderà appunto il nostro seggiolino che ci porta dall'altra parte. Oh no, di nuovo quell'enigma. E io non mi ricordo adesso i colori. Perfetto, siamo arrivati e occhio qui ragazzi. Occhio molto importante questa roba qui. In questa zona qui sopra, adesso facciamo attenzione a non cadere. Ecco, come potete vedere saltellando vi appare per pochissimi secondi la possibilità di cliccare E, di premere E e di prendere la chiave nascosta. Noi, adesso facendo molta attenzione, l'abbiamo presa. Abbiamo preso un uovo che in realtà non è una chiave nascosta. Ma adesso con questo uovo, ed ecco perché va fatto adesso. Piuttosto che aspettare che appunto il piccione si risvegli. Noi adesso andiamo a consegnare questo uovo extra, questo settimo uovo al nostro piccioncino. E lui ci darà la chiave viola. Settimo uovo e... Oh, 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 attenzione. E pensavo fosse una scammata e invece è vero. Pensavo fosse una mod e invece nessuna mod è vero. Il gioco è così. Quindi, prendiamo la chiave, andiamo alla stanza viola. Eccola qua ragazzi, eccola qua. Questa è la stanza viola e... Andiamo ad aprirla. Sono accese le luci al suo interno, perfetto. Ok. Eccoci qua. Come potete vedere, ecco, l'inquadratura è esattamente quella. Perché appunto, fate conto che la telecamera è lì. Però mi viene il dubbio. Questo muro è abbastanza strano, non notate? Questa rientranza più che altro non mi convince del tutto. E posso fare qualcosa qui? Magari c'è qualcosa di nascosto al suo interno? Mi sa proprio di no. Mi sa proprio... Un documento, attenzione. Un documento con un altro QR. Andiamo a capire un attimino se è uguale o se è differente a questo punto. Oh no, è diverso! E adesso vi farò uno screen anche di cosa mi mostra appunto la fotocamera. Perché in realtà, ragazzi... Non posso fare uno screen. Non funziona più lo screen, ragazzi. In realtà... Non fa altro che dirmi... It really hurts. Quindi fa veramente male. Quindi è veramente strano. Quindi è veramente strano. Credo semplicemente che il messaggio nascosto dentro questo biglietto aereo sia appunto... Fa veramente male. Tra l'altro, Waverly Mason è l'intestatario del biglietto da Montreal verso Madrid. Strano. Strano. Molto strano. Molto, molto, molto strano. Prima che me ne dimentichi, c'è un altro segreto. C'è un'altra roba da andare a scovare all'interno di questo gioco, di questo piccolo giochino. Perché se dopo aver fatto cadere il nostro amico Opila, il nostro amico Piccione, andiamo di qua, torniamo nella sala mensa, troviamo questo. Una cassetta audio con un coso per ascoltare le cassette audio e noi ci apprestiamo ad ascoltare. Ok, ho cercato tutto il tempo di capire quale fosse la lingua dei bambini che giocavano e parlavano, però il rumore finale mi ha destabilizzato un pochettino. Quindi nulla. La nostra prossima missione è in realtà finire il gioco. Quindi, adesso rasciamo fino alla fine del gioco e cerchiamo di capire se il verdone questa volta appare. Oh, perfetto. Eccoci qui. Allora, di nuovo l'enigma, quindi... No, questo era rosso, questo era giusto. Mannaglia a me, managlia. Mamma mia ragazzi, speedrun. Se io resto qui adesso, tra l'altro, lui arriva e mi si attiva il trigger della morte. Ora, stai attenti, ovviamente, a non farlo e attivare questo trigger della morte. Intanto abbiamo già richiamato il nostro dronino, perché adesso la cosa che andremo a fare sarà andare a premere il solito bottone. Tra l'altro è veramente strano, sembra plasticoso, ma non troppo. Via! Tra l'altro l'urlo che fa, ragazzi, è fastidiosissimo. Ok, perfetto. Abbiamo fatto tutto quello che andava fatto. Adesso non ci resta che entrare nell'ultima stanza, attivare l'ascensore e avere salva la vita, più o meno. Più o meno, perché in realtà non sappiamo cosa ci succede voi una volta scesi lì. Andiamo il drone a schiantarsi proprio lì. Poffete. E poi andiamo a premere questo tasto qui. Oh, bella. Abbiamo speedrunnato, eh. Abbiamo finito il gioco in pochissimo tempo. Oh, eccolo qui. Perfetto. L'ascensore incriminato. Ma, ascolta, facciamo una roba. Ecco qua. Assicuriamoci che il drone non mi blocchi l'evento. Andiamo. Perfetto, ragazzi. Siete pronti? Siamo pronti a vedere se il verdone ci farà del male oppure no. Oppure cadremo semplicemente come nell'ultima volta, come nello scorso video. E qua, ruttino. Doppio ruttino. Dov'è? Eccolo! Eccolo! Salve! E tu l'ultima volta non c'eri, eh? Eccala, siamo cascati. E niente, ragazzi. Questo era di nuovo, con tanto di tonfo finale, Garden of Bamban. Si fa più interessante, soprattutto con il nuovo QR scansionato. Sono curiosissimo di capire cosa succederà e come andrà avanti il gioco. Purtroppo dobbiamo aspettare durante il corso di quest'anno, perché la data di uscita per Garden of Bamban 2 è segnata come un genericissimo 2023. Speriamo esca il prima possibile, anche così da scoprire insieme cos'è e cosa ne sarà. Perché no? Di questa storia, come si evolverà. Io credo che faranno un po' come Poppy Playtime. Quindi il secondo episodio, cioè il primo episodio è servito un po' da appunto teasing. E il secondo invece sarà tanta 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 roba. Quindi ci vediamo al prossimo video.